Ciao, sono molto felice di sostenere questa iniziativa perché unisce due forme artistiche per me molto importanti, quelle che proprio stanno dentro il mio cuore, che sono il cinema e la letteratura. Dal 15 gennaio al 12 marzo avrete la possibilità di caricare su www.booktrailerfilmfestival.ue i vostri booktrailer. Questi verranno visti, selezionati e scelti per una serata finale che si svolgerà il 20 aprile al Teatro Sociale di Brescia, quindi partecipate a questa manifestazione perché è un'occasione, è un'occasione per voi che lo fate, è un'occasione per noi che lo guardiamo. Ci vediamo il 20, ciao!